Ciao a tutti! Oggi prepareremo la salsiccia con i piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono salsiccia, piselli, sale, cipolla, prezzemolo, vino bianco, olio, pepe e noce moscata. Andiamo via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale la cipolla e la tritiamo per 10 secondi a velocità 7. Andiamo a marinire sul fondo la cipolla. Adesso aggiungiamo l'olio. Andiamo a insaporire per 3 minuti a 120 gradi. Velocità sorta. Adesso andiamo a inserire la farfalla sopra le lame. Aggiungiamo i piselli. Ci vediamo con una spadola. Andiamo a mixare. Il pozzemolo. Una scoperta di bebe. e un po' di noce moscata. E andiamo a cuocere il tutto per 5 minuti. 100 gradi. Antiorario. velocità. Velocità sorta. Adesso aggiungiamo il vino bianco e cuociamo per altri 8 minuti. 100 gradi. 100 gradi. anti-orario. velocità sempre soffita. Adesso aggiungiamo la salsiccia. e andiamo a cucinarla per 20 minuti. quindi 20 minuti. 100 gradi. sempre anti-orario. velocità soffita. la nostra salsiccia è pronta. andiamo a impiattare. salsiccia con piselli. grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.